Ciao a tutti da Podrack, bentornati in un nuovo unboxing e da un po' che non ci vediamo in questo format semplicemente perché non c'erano le pacche interessanti sono arrivate due cose, però sono arrivate separatamente quindi ho visto che era inutile fare un unboxing è arrivato questo nuovo dispenser della Xiaomi è un tipo di dispenser interessante perché riduce nettamente l'utilizzo del sapone quasi al 70% lo sto utilizzando praticamente da un paio di settimane e penso di farci un video dedicato perché è davvero bello se siete curiosi vi lascio il link qui sotto per acquistarlo nel caso su Banggood ma vi ripeto a breve penso di portarvi una recensione completa dispenser non ve lo faccio vedere perché è in bagno, è semplicemente questo qui che vedete in figura voi mettete la mano sotto e in automatico eroga il sapone in formato schiuma altro gadgettino che mi è arrivato, questo da una startup su Indiegogo che cos'è questo? questo è un oggettino, sembra strano, con dei numeri qui nella parte superiore e un orologio qui nella parte frontale non si vedrà niente in poche parole che cos'è? è un timer smart ok? io che cosa faccio? voglio impostare 5 minuti lo appoggio semplicemente qui in automatico capisce che l'ho posizionato su 5 minuti e qui parte il timer che mi dice quanto manca alla fine del timer c'è un suono è un dispositivo buono non so se considerarlo geniale o cafonata vedo un po' anche in famiglia cosa ne pensano soprattutto in cucina e nel caso vi porterò un video dedicato ora giungiamo al punto saliente di questo video sapete io su sconti Google ogni tanto vi metto queste offerte fighissime e nelle varie offerte che avevo trovato ho trovato FIFA 20 per PlayStation 4 praticamente a 39 euro mi pare su PlayStation i giochi sono sempre costati un pochettino anche se in realtà penso che ormai con tutti quei siti strani di chi si riesce a fare tutto e semplicemente qui c'è il CD, basta ovviamente non posso giocare a FIFA 20 se non ho la console io ho come console Google Stadia ultimamente ma in realtà non è una console vi devo dire che ultimamente non ci ho giocato proprio dopo il video che ho fatto praticamente l'ho lasciato lì ho solo il joystick qui che mi piace averlo vicino che è carino ma non l'ho usato più Google Stadia perché io ho un PC da gaming, uso quello in realtà l'ho riscontrato molto utile invece sullo Xido Feel Pad quel computer che avete visto sul mio canale in qualche recensione fa ecco, quel Xido Feel Pad è un notebook molto economico costa sui 350 euro e Google Stadia girava benissimo in realtà io non lo amo tanto chiamare Google Stadia io lo voglio chiamare Google Stadia mi suona meglio ognuno la so pronuncia e mi son chiesto ma a sto punto conviene magari avere veramente le console fisiche spendo quei 200 euro infatti adesso te le tirano in testa le PlayStation anche se ultimamente su Amazon le PlayStation non tanto che le trovi facilmente in offerta ogni tanto però proprio anche non in offerta non le trovi io ho preso questa PlayStation molto basic 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 che non costava tantissimo anzi devo dire un prezzo onesto considerando che sono andato in negozio parecchi mesi fa ho comprato un joystick per giocare con un mio amico alla PlayStation perché lui non ce l'aveva e essendo che avevo bisogno con urgenza l'ho comprato in negozio solo il joystick mi pare una sessantina di euro cioè la PlayStation qui su Amazon costava all'incirca 220 euro una roba del genere però quale PlayStation ho comprato perché ce ne sono tantissime un po' di carta inutile voilà ecco qui la PlayStation 4 ahimè con Fortnite davanti io mi chiedo ma perché hanno messo Fortnite se è gratis io non penso mi abbiano messo il CD per scaricare Fortnite no che cacchio è forse sono contenuti esclusivi tipo qualche skin particolare non lo so io non acquisto PlayStation praticamente dalla 2 e ho scoperto a mio malgrado che su PlayStation per giocare online ma anche su Xbox devi pagare un abbonamento mensile assurdo e io dopo mi sono chiesto ma perché la gente a sto punto si lamenta di Google Study alla fine quello che pagano in un abbonamento potrebbero pagarlo in un abbonamento a Google Stadia e hanno tutto possono giocare online hanno qualche gioco gratis boh io volevo fare questo confronto Google Stadia versus console ah ok mi è preso uno spavento pensavo fosse il computer invece il timer che è arrivato a 5 minuti dentro questa edition cosa troviamo vediamo prima di tutto come si apre questa è la PlayStation Slim 500 giga e adesso provo a uscire del tutto un cavo penso HDMI sembra un cavo HDMI delle cuffiette però di bassa qualità neanche nei telefoni di 10 anni fa il joystick io ne ho già un altro quindi posso giocare con mio fratello a FIFA cavo di alimentazione 10.000 manuali per capire la garanzia tutte quelle robe lì il cavo per collegare il joystick penso per ricaricarlo è da un po' che non uso PlayStation non mi ricordo ma penso forse è wireless credo di sì quello lì forse solo per ricaricarlo c'è la PlayStation Slim guarda un po' che carina eccola qui la PlayStation Slim con un bel materiale qui nella parte superiore che appena appoggi qualcosa si sporca subito ecco un po' mi è dispiaciuto il fatto che ha solo 500 giga questa edizione ma altre edizioni che costassero poco non c'erano su Amazon cavo là quelle robe lì ma ormai la conoscete la PlayStation ma questo unboxing l'ho fatto più che altro per aprire un dibattito io sono un PC gamer ok io ogni giorno utilizzo il mio PC per giocare ultimamente sto giocando come vedete a Star Wars Battlefront 2 quello è un gioco che davvero adoro ultimamente anche se l'ultimo aggiornamento con BB8 che è più potente di ogni Jedi non si capisce come è possibile ogni tanto gioco a qualche simulatore qualcosa del genere ho speso sì un bel po' circa 1000 euro un paio di anni fa sì forse anche meno però utilizzo il PC anche per YouTube per montare i video per fare un sacco di cose ci sono le console le console costano al lancio 500 euro sì alla fine dell'anno arriverà probabilmente la PlayStation 5 qualcuno dirà ma che senso ha comprare la PlayStation 4 nel 2020 se uscirà la PlayStation 5 probabilmente a fine 2020 dovete considerare il fattore economico al lancio queste console acquisiscono un valore che non hanno infatti molto probabilmente costerà 500 euro la PlayStation 5 con 500 euro volentoti puoi fare anche un PC da gaming non certo stratosferico ma comunque qualcosa di carino potresti fartelo tra l'altro la PlayStation 5 sarà retrocompatibile per cui i giochi della PlayStation 4 nel caso trai sempre giocarli anche nella PlayStation 5 tipo FIFA 20 che ho comprato per la PlayStation 4 ha un prezzo interessante adesso i giochi della PlayStation 4 si trovano davvero a prezzi assurdi ci sono delle esclusive anche per PlayStation 4 qui uno si domanda vabbè c'è l'esclusiva su PlayStation 4 tanto vale che prendo una console solo per giocare alle esclusive infine c'è Google Stadia Google Stadia una digital console la chiamerei che all'inizio sembrava interessante però secondo me ancora non ha preso piede anzi chissà se prenderà piede a questo punto quello che un po' fa turbare di Google Stadia sono i prezzi dei giochi non tanto l'abbonamento che alla fine è abbordabile ma spendere di nuovo 70 euro per Red Dead Redemption per qualsiasi altro gioco che attualmente su console costa decisamente meno costa ancora meno su PC capite che un po' la gente dice vabbè bella l'idea bello tutto io ho anche magari la fibra funziona tutto perfetto però un po' voi in quale categoria vi sentite far parte? ai PC gamer spendo i miei 1300 1500 2000 euro tre anni quattro anni sto bene gioco a diversi giochi però non ho magari qualche esclusiva di console gioco su console però la grafica spesso è limitata gli FPS non sono sempre al massimo ci sono ovviamente anche su console dei giochi che su PC non ci sono però spendo quei 130 euro per Xbox oppure quei 200 euro per Playstation 4 e non è che spendo tantissimo gioco a diversi giochi interessanti Google Stadia spendo quei 10-20 euro al mese anche su un PC che non è granché ho la portabilità ho tutto il resto ho il salvataggio su cloud è una bella domanda io aspetto i vostri commenti qui sotto se volete vi lascio in descrizione anche il link della Playstation 4 su Amazon vi lascio il link dei prodotti che vi ho mostrato anche di questo progettino qui strano non saprei definirlo quello che invece mi sta piacendo tantissimo è il distributore del sapone a schiuma quello è davvero utile soprattutto adesso che c'è qualche problema con i virus mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale seguitemi su TikTok eh sì anch'io sono su TikTok Facebook Telegram sconti gogo per le offerte e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao